Nell'ambito dell'intensificazione dell'azione di prevenzione dei reati decisi dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Chiara Armenia, continuano senza sosta i controlli svolti dai carabinieri del reparto territoriale di Gela, supportati dai militari della Compagnia di Intervento Operativo del XII Regimento Mobile Sicilia, da alcuni giorni a Gela per rafforzare il dispositivo di controllo del territorio. Nel corso dei controlli sono stati verificati 175 atomezzi, elevate 11 contravvenzioni al codice della strada, ritirate due carte di circolazione, identificate 216 persone. Sette le perquisizioni personali eseguite, al termine delle quali sono stati rinvenuti circa 4 grammi di hashish, due bastoni e un taser. In particolare sono stati deferiti, un 37enne trovato in possesso di un bastone in legno della lunghezza di 54 cm e di 3 grammi di hashish, un 15enne trovato in possesso di una pistola elettrica taser e di 0,5 grammi di hashish, un 32enne in permesso premio dalla casa di reclusione sorpreso alla guida di un'autovettura con battente falsa e in possesso di diverse carte di credito intestate da altre persone, un 40enne agli arresti domiciliari per violazione delle prescrizioni imposte e un 72enne trovato in possesso di un bastone in legno della lunghezza di 50 cm.